Sei la ragazza con la famiglia sorda? Sì. La bellezza di essere diversi. E tu canti. Interessante. E la ricerca di se stessi. Sai cantare. Cosa farai l'anno prossimo? Ma la paura di realizzare i propri sogni. Lavorerò per mio padre. Come ti senti quando canti? Con Emilia Jones. Io non ho mai fatto niente senza la mia famiglia. E il premio Oscar Troy Cozzio. Per il ciclo Una Notte da Oscar. Coda. I segni del cuore. Domenica alle 21.15 su Cielo. Domenica alle 21.15 su Cielo.